Dove non arriva alla mano pubblica, un po' per burocrazia, un po' anche per il periodo estivo, sopperisce la buona volontà di il senso civico dei privati. Così su sollecitazione del consigliere comunale Leonardo Gallo, una ditta di l'illucale intervenuta in via Casa Ventura di Rufoli, la stradina che porta al campo sportivo della frazione della città collinare. A proprie spese, l'imprenditore, con i suoi operai, ha ripulito la strada e l'ha resa ripecorribile in sicurezza. Grazie anche all'intervento dei privati e alla sua sollecitazione si risolvono problemi che probabilmente, seguendo l'iter normale, quello della pubblica amministrazione, avrebbero impiegato un po' più di tempo. Sì, in effetti c'è stata questa, diciamo, la chiamiamo l'urgenza, il periodo è questo e di conseguenza era un po' complicato attivare tutta la macchina organizzativa del comune e dell'amministrazione, pertanto quelli sono i luoghi che mi hanno visto nascere e crescere e allora certe volte, grazie alla stima, all'affetto di amici conoscenti, parenti e familiari, ho potuto senz'altro essere di una qualche utilità più immediata in questo testo.